Farei magari un'ultima domanda a entrambe, visto che se non ce ne sono altre da parte vostra naturalmente, sulla scrittura per entrambe. A Silvio Ballestra si ha fatto proprio un percorso particolare nella scrittura per arrivare a questa lingua della comunità anch'essa, dove c'è il dialetto, dove ci sono delle espressioni dell'italiano regionali, magari non dialettali ma tipiche di quella zona comunque, e anche a un punto di vista, una prospettiva, diciamo come dire, fusa con la comunità, tutta dentro, racconti questa storia dall'interno, è come se ci fosse un soggetto che dice sempre noi, ecco come si è arrivato attraverso la scrittura. Invece a Laura Pugno chiedo se questa essenzialità, queste frasi molto scandite, una frase per ogni azione sembra quasi, no, l'inglese di cui si dice di solito che più di un concetto per frase non ci entra. Ecco, se questo è stato frutto di un lavoro di più riscritture o se viene di getto. Allora, io sicuramente ho fatto un cammino verso l'essenzialità, nel senso che per si scrive poesia l'ideale sarebbe il controllo totale del testo, che ovviamente è un'utopia, però come dire, un'utopia che è un po' come gli asintoti della matematica, uno si dà come obiettivo. Ovviamente in prosa si devono fare molti compromessi, però l'idea è sempre quella di rendere l'oggetto testo il più possibile liscio come il sasso di cui si parlava all'inizio. Per me, paradossalmente, la semplicità è stata, come dire, un obiettivo emerso nel tempo, maturando nella mia esperienza di scrittrice. All'inizio sicuramente il mio stile era in qualche modo più ricercato e poi piano piano sono andata un po' depurando tutti i sedimenti. Quindi, appunto, il prossimo romanzo è sempre un'incognita, però sì, l'essenzialità, la semplicità. Io poi non riscrivo tantissimo, tendo piuttosto a faticare molto prima, come avevo detto, però sicuramente c'è un processo di lima, di levare, che infatti è la disperazione dei miei editor, perché quando poi da 90 pagine di manoscritto entro agli 20, l'editor tende a dire basta, magari aggiungi anche qualche scena. E quindi sì, diciamo che è un obiettivo. Passo a Silvia. No, prima Laura diceva che io scrivo dei romanzi lunghissimi. Non è vero, io nasco scrittrice di racconti, perché il primo libro, Complicando l'Iguana, erano dei racconti. Dai no, adesso spiego perché, è vero, questo è il mio più lungo. Però diciamo pure che sono tre storie, sono tre storie che potrebbero anche essere lette indipendentemente, anche se poi a me interessava annodarle una sull'altra per segnare un percorso fondamentalmente, per segnare quello snodo che poi volevo raccontare all'inizio. Però sono tre storie diverse proprio perché, come dicevo all'inizio, parlano di tre Italie diverse, parlano di tre momenti diversi e quindi in realtà anche la lingua è un po' diversa da parte a parte. E nella prima, forse, non so, io spero, ovviamente c'è stata questa ricerca di raccogliere il maggior numero possibile di voci, di echi, di parole, di parole anche, di un linguaggio anche tecnico che è quello legato, per esempio a me personalmente, proprio alla fine del lavoro, la cosa che mi interessava di più, che mi ha in qualche modo affascinato di più era anche a girarmi in questo mondo della marineria che conoscevo solo così, un po' da spettatrice per dei giri che avevo fatto al porto da piccola, però non avendo parenti che avessero mai lavorato sul mare, perché io invece vengo dalla terra, nel senso che la mia famiglia poi invece si è sempre occupata di terra e non di mare, c'è un po' questa cosa anche nella cucina, anche nella lingua, c'è questa distanza fra la campagna marchigiana che pure è una componente importantissima del paesaggio marchigiano e però anche la dimensione invece della costa, del mare. E quindi mi sono lasciata molto affascinare anche da questi elenchi di pesci, alcuni nomi di questi pesci sono stati inventati dai marinai di San Benedetto, essendo marinai quindi anche ignorantissimi, poi si vedevano queste creature anche di mari esotici, cioè non dell'Adriatico ma dei mari delle coste africane, quindi che non avevano mai visto prima e si inventavano loro i nomi perché non li conoscevano. Poi sui pesci credo che appunto i nomi poi variano moltissimo anche a seconda che sei sull'Adriatico o sul Tirreno, da una parte ci sono i gianchetti e invece da quell'altra si chiamano in un altro modo eccetera. Per cui c'era anche questo vocabolario tecnico che devo dire mi ha aiutato molto a ricreare anche un clima, un'atmosfera eccetera, poi invece nelle altre due parti insomma è la mia lingua. Io comunque ho usato sempre dall'inizio il dialetto più o meno nei miei libri a seconda appunto delle storie e non avendo mai parlato il dialetto anche perché poi sì vabbè sarà una situazione tipica delle marche ma in realtà riguarda tutta l'Italia, cioè poi i dialetti cambiano in maniera incredibile anche nel giro di pochi chilometri. Però a volte il dialetto è proprio una lingua straniera per cui insomma io poi ho studiato lingue e a me le lingue mi hanno sempre affascinato per cui mi affascina anche interrogarmi su alcune parole dialettali che hanno un loro significato, hanno una loro storia che magari non appare subito. A me per esempio lo racconto da una terza parte, c'è una parola che sembrava legata a un'età, proprio all'età della scuola media, una parola che riguarda il sesso ovviamente perché tanto a quell'età lì giri e che solo dopo anni ho capito perché, perché quella parola e non un'altra dopo essermi scervellata e niente, quindi ho fatto questo omaggio anche alla lingua. Allora, mi pare di capire che siete soddisfatti così e ringraziamo sicuramente Silvia Barlestra e Laura Pugno, un applauso, bene. Vi do appuntamento al prossimo incontro che sarà il 10 di febbraio, sempre qui con altri due libri che avete ricevuto oggi e avendo ricominciato l'anno abbiamo ritrovato anche dei compagni di strada che ci aiutano all'organizzazione, faccio riferimento naturalmente al gioco del loto e ad altri, alle biblioteche di Roma naturalmente, alla Fondazione Roma da quest'anno, le ritroveremo tutti questi anche nei prossimi incontri, grazie, ciao. Grazie.